Paura a voi Uganio in via Mazzini per un incendio di Van Patten il pomeriggio di domenica. Nessuno è rimasto ferito. L'intervento dei vigili del fuoco di Este e Padova ha permesso lo spegnimento del fuoco e il salvataggio di due cani, un Jack Russell rimasto nell'abitazione in cui è scoppiato l'incendio e un cocker presente in un appartamento attiguo invaso dal fumo. Non sono ancora note le cause del rogo che ha provocato dei danni al soggiorno dell'appartamento e ha invaso con il fumo la palazzina attigua. L'alloggio interessato dall'incendio non è al momento agibile mentre i condomini dell'appartamento attiguo dopo aver arieggiato i locali hanno potuto rientrarvi.